Ciao a tutti da Federico di Seconda Vita. Nuova video recensione di software audio-video acquistato nei mercatini romani dell'usato. Protagonista di questo video, l'edizione a due DVD di un film del 2002, prequel di uno dei 100 migliori film statunitensi di tutti i tempi. Prodotto e distribuito dagli Universal Studios, Red Dragon è diretto da Brett Ratner, regista, produttore cinematografico e televisivo statunitense, che acquisterà negli anni una certa familiarità con le storie a più capitoli, essendo stato regista di tutta la trilogia di Rush Hour e avendo diretto anche il terzo capitolo della versione cinematografica degli X-Men. Red Dragon, che ha mantenuto il titolo originale sul mercato italiano, è un thriller psicologico con protagonisti principali Edward Norton e Anthony Hopkins. Il film è tratto dal romanzo Il delitto della terza luna, di Thomas Harris, e costituisce il prequel, girato undici anni dopo, di Il silenzio degli innocenti di Jonathan Dam. Red Dragon è anche il remake di Manenter, Frammenti di un omicidio, di Michael Mann, uscito nel 1986. Il film ha inizio con la cattura del consulente per i profili psicologici dei serial killer Hannibal Lecter, Hopkins, da parte del giovane agente dell'FBI Will Graham, Norton, che da quella cattura ne esce gravemente ferito e sconvolto, tanto da lasciare il bureau. I due si incontrano nuovamente tre anni dopo, quando Graham viene convinto a cercare l'aiuto della sua nemesi per catturare il serial killer soprannominato Il Lupo Mannaro, interpretato da Ralph Fiennes. I successivi incontri ad alta tensione tra l'ex FBI e l'ex serial killer Hannibal the Cannibal portano pian piano a tracciare con sempre maggiore precisione il profilo di questo nuovo mostro, seppur lungo un continuo gioco di pressione psicologica. Terzo ed ultimo capitolo della trilogia cinematografica dedicata all'inquietante Hannibal Lecter, Red Dragon non soddisfa pieno tutte le aspettative, stando alla critica cinematografica. Il dizionario dei film Il Mereghetti gli assegna una stella e mezza su quattro, giudicandolo troppo simile a Manhunter, e mancante di quello stile e di quella profonda tensione che caratterizzava il primo silenzio degli innocenti. La rivista DVD Review dedica al film la copertina del suo numero 19 di maggio 2003, insieme ad uno speciale di quattro pagine ed una recensione del DVD. Assegna al film tre stelle su cinque, giudicandolo un buon thriller, anche se non riesce ad eguagliare il suo sequel nell'originale tetralogia di Thomas Harris. Dal punto di vista tecnico, il DVD presenta alti e bassi. Detta così, conviene iniziare dalla parte audio, che è davvero notevole. Il DVD presenta sia la codifica Dolby Digital che quella DTS 5.1, costantemente sollecitate per rendere il film ancora più inquietante. Non vorrei sbagliarmi, ma grazie al mio Denon, che ha la possibilità di elaborare la codifica DTS Neural X, in alcune scene più movimentate ho sentito intervenire anche i diffusori a soffitto. Le note dolenti arrivano purtroppo dal video, non all'altezza dell'audio. La doppia codifica audio, tripla se consideriamo la lingua originale, comporta sicuramente la necessità di una maggiore compressione, che si palesa in diversi momenti. Probabilmente anche per scelta artistica, i colori sono molto freddi, tendenti al blu, rendendo la visione poco naturale. Anche se nelle note di copertina non se ne attraccia, cosa molto strana, tutti gli inserti speciali, oltre ai commenti al film, sono inclusi in un secondo DVD, molto ricco. Il contenuto più interessante è sicuramente il making off di 40 minuti, nel quale sono raccontati i principali momenti della lavorazione del film. Attraverso questo contributo si entra nel vivo del lavoro del regista sui vari set delle riprese, scoprendo aneddoti, trucchi e altre magie della settima arte. Gli altri contributi si guardano con piacere, ma non sono fondamentali. Per questo DVD fate attenzione solamente al rate. Il film è indicato per tutti, ma a mio giudizio è un palese errore. Senza voler essere bacchettoni, ma il film ha alcune scene molto forti ed è quindi assolutamente da evitare per i più piccoli. Per quanto riguarda la colonna sonora audio, durante la visione del film non ho prestato particolare attenzione alle musiche di Danny Elfman. La curiosità dell'ascolto dedicato sulla piattaforma Quobus ha confermato le mie impressioni di un'opera non particolarmente rilevante. Per quanto mi riguarda, Red Dragon è un buon thriller, ma certamente non all'altezza del suo predecessore, o successore che dir si voglia. È un film sicuramente inquietante come può esserlo solo il personaggio di Hannibal Lecter, portato sullo schermo da un sempre grande Anthony Hopkins, che tratteggia il suo personaggio ancora non in equilibrio tra la sua follia, la sua rabbia e la sua genialità. Da questo blasonatissimo cast però ci si aspettava di più, considerati i milioni spesi per la sua produzione, comunque ampiamente rientrati dai biglietti staccati dal pubblico in sala. Chi non convince molto è proprio Ralph Fiennes, che tratteggia un cattivo disturbato sì, ma che suscita anche pena per la sua condizione mentale dovuto al suo passato di abusi. Vista la qualità del video, non manterrò questo DVD nella mia collezione. Attenderò la visione di tutta la trilogia cinematografica tratta dai libri di Thomas Harris e valuterò se acquistarlo in Blu-ray, visto l'impatto della parte audio veramente notevole. Curiosità? Il set del carcere e in particolare la cella di Hannibal Lecter sono stati ricostruiti nei minimi particolari dall'originale del Silenzio degli Innocenti. Alcuni dei disegni che tappezzano la cella sono esattamente gli stessi, presi in prestito dagli archivi Orion ereditati dalla MGM. Come qualcuno avrà giustamente commentato, il livello delle offerte sarebbe esorbitante qualora questi bozzetti venissero messi all'asta. Se da un cast stellare ci si aspettava di più per questo Red Dragon, una menzione speciale va a Emily Watson, che conquisterà anche un premio dalla critica londinese per la sua interpretazione di una donna non vedente che intesse una relazione sentimentale con il serial killer interpretato da Ralph Fiennes, non sapendo nulla di lui. Godetevi le scene finali del film per capire veramente cosa si può provare senza vista in una situazione simile a quella da lei vissuta. Se questa video recensione vi è piaciuta lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere la notifica di nuove video recensioni. Per questo contributo è tutto, buon Natale da Federico di Seconda Vita.